Cari quaddisti, buongiorno, eccoci con Nicola Montalbini, portacolare dell'Italia in questa prova dell'europeo quadcross, secondo posto in gara 1 dopo una lotta infinita con Jeremy Varnia e purtroppo un ritiro tecnico avvenuto in gara 2 mentre deteneva saldamente la terza posizione. Nicola, facci tu un breve riassunto della situazione. Niente, gara 1, ho fatto un'ottima partenza, sono riuscito a prendere un buon ritmo, solamente che l'ultimo giro purtroppo c'era Jeremy che si era avvicinato parecchio, mi sono trovato su una curva che sapevo che lui l'avrebbe fatta più forte di me, allora ho cercato di tenere la corda per non dare spazio, però mi sono un po' girato e quindi ho perso proprio quell'attimo che è stato fatale, diciamo. Gara 2, secondo posto, comunque io contento, molto contento. Ma neanche un secondo, praticamente, non può essere un pari merito perché nella competizione non c'è, ma come se fosse un primo posto. Invece seconda manche, niente che dire, abbiamo rotto la moto. Comunque in terza posizione. Era in terza posizione, non è detto che non potevo recuperare. Stavi controllando tranquillamente, ti andava bene dove eri e eri lì in attesa. Sì, non volevo fare errori, quello sicuramente. Perché Stefan Schreiber e Jeremy Varnia davanti erano veramente aggressivi e tu sembrava volessi tenere la posizione fuori dalla... Beh, non volevo compromettere la gara, amari con un errore. Nicola, i nostri complimenti, ci hai fatto sognare in gara 1 e ci hai fatto sognare finché durate in gara 2. Non so, veramente, sei stato grandioso e un arrivederci alle prossime gare. Sicuramente. Grande Nicola, grazie a te. Ciao.